Il WWF Abruzzo ha inviato una segnalazione all'area marina protetta Torre del Cerrano al comune di Pineto alla Guardia Costiera per denunciare l'intervento fatto alle porte della Torre di Cerrano in un fosso poco distante dall'ingresso del giardino mediterraneo che è stato ripulito dalla vegetazione spontanea non con uno sfalcio ma con una vera e propria cementificazione. Il tutto per la realizzazione di un ponticello a monte di quello già esistente per far passare la ciclovia drilatica. La cosa che maggiormente preoccupa gli ambientalisti è il fatto che in questa zona è segnalata la presenza del raro rospo smeraldino, specie attualmente in periodo riproduttivo. Sabato scorso abbiamo preso visione di alcuni lavori che si stanno effettuando nel comune di Pineto per la realizzazione di un percorso ciclabile che interessa anche la zona B dell'area marina protetta Torre di Cerrano. Particolarmente critico è stato l'intervento all'interno di un fosso che ha visto la completa rimozione della vegetazione dallo stesso ma anche una colata di cemento che ha di fatto tombato il fosso. All'interno del quale tra le altre specie ne è presente una molto particolare cioè il rospo smeraldino. Abbiamo subito inviato una nota agli enti competenti quindi al comune, all'area marina protetta e alla guardia costiera e allertato il presidente dell'area marina protetta il quale si è subito interessato di capire cosa fosse successo nella realizzazione dei lavori. Ovviamente un simile intervento non può essere tollerato all'interno di un'area marina protetta per questo chiediamo che vengano ripristinati i luoghi ma anche che vengano messe in atto delle azioni di compensazione per il danno che è stato irrimediabilmente commesso.